Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Dopo la loro partecipazione a Temptation Island, Jenny Guardiano e il suo fidanzato Tony stanno dimostrando di essere più uniti che mai. Tuttavia, nonostante la loro serenità ritrovata, la coppia continua a essere bersaglio di critiche, in particolare nei confronti di Tony. In molti, sui social, hanno preso di mira il suo aspetto fisico con commenti negativi e pieni di cattiveria. Stanca di queste offese, Jenny ha deciso di reagire. Con un video su TikTok ha difeso Tony con forza, sottolineando come il body shaming sia inaccettabile, indipendentemente dal genere. Lui non è brutto, ha affermato Jenny, aggiungendo che le persone che si permettono di giudicare dovrebbero fare i conti con la loro insensibilità. Ha poi ribadito che la bellezza non si trova nell'aspetto esteriore, ma nel cuore delle persone. Il messaggio di Jenny è chiaro, nessuno ha il diritto di giudicare l'aspetto fisico di un altro, e lei è pronta a difendere il suo amore contro qualsiasi tipo di cattiveria. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.